Il consigliere comunale di Agrigento Mario Fontana della Lega invita l'amministrazione a modificare l'ordinanza che vieta l'asporto di bevande alcoliche dalla mezzanotte a chiusura fermo restando logicamente il divieto di vendita delle bottiglie in vetro che in passato ha certamente arrecato non pochi danni alla nostra città nonché principalmente a coloro che sono state vittime di violenza. Mario Fontana continua, essendo stato più volte sollecitato da vari esercenti, ho ritenuto opportuno portare avanti tale motivata istanza in quanto costoro sono già state vittime di un periodo estremamente gravoso e non possiamo consentire la morte di questo settore in una città definita vocazione turistica. Pertanto continua Mario Fontana della Lega confido nel buon senso del sindaco dell'assessore Picarella e di tutta l'amministrazione comunale affinché tali istanze siano accolte positivamente per permettere a coloro che rappresentano il motore dell'economia cittadina di ricominciare a lavorare serenamente cercando di sopperire in parte ai danni irreparabili causati da questo incessante periodo di pandemia.